salve come va? no, devo rifare l'impro benvenuti in questo nuovo video io sono MasterWall2 oggi vi parlerò di una console si per niente un attimo eh un attimo eh un attimo eh fate caso che sono quasi morto ok oggi vi parlo mi sono stato aperto oggi vi parlo del un attimo no, un attimo ora oggi vi parlo del Nintendo Switch dove ci sono riflesso io dove ci sono riflesso io 10 miliardi di volte ecco, questo è Nintendo Switch ok quindi ora lo accenderò questo è l'accensione non badate al fatto che mi rifletto nell'accensione e questo è il tasto home beh, dobbiamo premere lo stesso tasto per 3 volte non si vede niente però dettaglio io per ora ho un solo gioco per questa console che è è Super Mario Odyssey ma non voglio aggiornare ok ora giocherò a Mario Odyssey e commenterò quello che succede anche se voi non vedete niente perché questo è un gameplay bello allora voi vedrete tutto così no scherzo allora questa è una recensione della console di Nintendo appunto lo Switch io lo chiamo Switch perché si dice Switch e possiamo no stai zitto Mario e possiamo vedere che appunto se noi clicchiamo questo tastino questo qua si praticamente si staccano i cosi si staccano i i i Joy-Con i Joy-Con e i Joy-Con quando ci sono i filmati vibrano e noi possiamo premere questi due tasti al lato ok qua c'è il tasto e i video perché si possono fare anche i video come su YouTube esatto ora metterò un attimo post nella custodia poi illustrerò tutti i gadget che mi sono stati dati allora iniziamo subito dal joystick questo è un joystick ok iniziamo quello da D4 però se perché non ha i controller semplice perché noi ci dobbiamo attaccare qua i Joy-Con no? attacchiamola e va tutto bene ok vedete si attaccano così come si attaccano su Switch Switch Dio ah ok non c'è dentro lo switch cosa mi fa? so di aver rotto lo switch no ah ragazzi non riesco a infilare il secondo halfdog che è normale cioè secondo Joy-Con è normale ok così abbiamo un joystick molto comodo con cui possiamo giocare a distanza dallo switch appunto lo switch così sembra un po' un tablet ma meglio così no? poi l'altro gadget che mi sono trovato è questo che appunto se vuoi giocare con i i Joy-Con staccati poi cioè attaccati al joystick poi semplicemente fare così ci colleghi tutti questi cavi poi ci metti lo switch qua sopra e i giochi attacchi alla tv ahia mi sono morso i denti tutti i cavi del caso no? del caso ok ora vi illustrerò un attimino mi aveva andato anche la spilla di cappi ma ovviamente io l'ho persa perchè sono un idiota scusate se però c'è per dore ma dopo vi illustrerò anche com'è fatta la console e i Joy-Con appunto un attimo che qua è dove va lo switch l'unica cosa che non ho capito è che questo non c'è scritto Nintendo Switch da nessuna parte vedete non c'è scritto cioè questo invece lo scomparto per i giochi oddio per i giochi vedete qua ci vanno tutte le schedine e qua invece non lo so ci vanno i gadget forse questo qua proviamo a mettercelo non ci vanno i gadget non so forse ci vanno questo oddio stava per cadere tutto ma tutto 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 ovviamente la custodia non è che protegge lo solicita qualsiasi danno cioè mi casca giù da un burrone si rompe lo stesso credo almeno il nostro poi questa non è quella cinesata una fatta di gomma no no non risponde nessuno ok l'unico gioco che dicevo cioè che ho preso appunto dicevo Mario Odissi che la custodia ce l'ho qua sopra Mario Odissi è una figata ok ragazzi leo switch è bellissima console perché dice che mi dimentico per bambini dovrebbe morire no ma non me ne ho accorto che figata no dentro alla custodia ci sono le lyrics di jump up superstar la canzone che canta Pauline nella city fichissimo ma non me ne ho accorto wow 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 e niente questa era la mia mini recensione dello switch dite in solito altre mini recensioni altre recensioni altre cose fighe io devo andare a cena quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao